Allo scadere del termine il 28 febbraio su 6.020 diritto, 2.400 hanno approfittato dell'opzione aperta da quota 100. Non tantissimi dunque, anche perché a fronte dell'opportunità, in tempo di crisi, il minor gettito della pensione è sensibile. Il dato tuttavia più evidente nel pubblico è l'adesione degli insegnanti. Anche in questo caso non tantissimi rispetto a quanti ne avrebbero diritto, ma pur sempre più dei 400 entrati con l'ultimo concorsone che aveva dato ossigeno alla scuola. Osservatorio privilegiato di questo mondo, il patronato CISL, che ha lavorato più di un terzo di queste istruttorie, fornendo circa 3.000 consulenze. 1.443 domande sono del settore privato, 967 sono del settore pubblico e di queste 1.537 sono uomini, 873 sono donne. Nel settore pubblico c'è una forte adesione a quota 100 del mondo della scuola, sono 563 le domande. Si pone il problema di come, dal punto di vista degli organici, il MIUR affronterà il tema della sostituzione del personale che va in pensione. Fin qui le cifre. Questi numeri pongono più di un problema, soprattutto nel settore pubblico, e il sindacato ha già cominciato a muoversi. Usciranno nel corso del 2019 circa 1.500 persone, un terzo nella scuola, due terzi nella sanità, nei comuni e nei ministeri. E vi è una lentezza veramente grave e colpevole per quanto riguarda il nostro sindacato nell'affrontare i nuovi piani di assunzione e le nuove dotazioni organiche. Il rischio che da dopo l'estate abbiamo in sanità molti meno medici e infermieri dei necessari, e così come nelle altre pubbliche amministrazioni, è molto elevato. Ma se ne parla molto poco. Ecco perché il sindacato e la CISL in particolare vigilerà nelle prossime settimane, affinché in tutte le pubbliche amministrazioni si velocizzino le procedure di assunzioni per sopperire almeno le uscite già previste per dopo l'estate.